Bentornati su MyFootballJersey. Vi mostro oggi questa maglia di una squadra che in Inghilterra dall'anno scorso sta facendo sognare i suoi tifosi. Questa è la prima maglia del Brighton in versione player, la versione fan l'avevamo già vista, trovate qui in alto la recensione. Grazie a tutti. La maglia è molto bella, tra l'altro vi ricordo che la versione player è quella un po' più sfiancata con materiali più tecnici che viene usata dai calciatori. Il costo lo vedete qui sopra veramente strabiliante. Se volete maggiori dettagli trovate tutti i riferimenti qua sotto nella descrizione del video. Andate a vedere perché insieme a questa troverete tantissime altre maglie che vi attendono. Ora vi lascio alla parte finale. Prima però mi raccomando iscrivetevi al canale. È un piccolo gesto ma che ci aiuta a mostrarvi maglie come questa tutti i giorni. per oggi è tutto. Alla prossima.